Che cosa può fare Serena? È plinno Cosa sta facendo da mamma? Sta rando Ciao Minerva Prendi che è addestato a Foggia Vedete i carabinieri Ho visto uno Uno degli emergenti Che stava lì a domiciliare Allora la donna si è infilata Sì che ha la passione Si è infilata in tre case Io non ce l'ho pure arresto Insomma sono accucciate Sono accucciate Sono accucciate E altri 150 cristiani Sono in Carabinieri Sono in Buonasera Ho messo i ciamati rinforzi Poi ho messo i ciamati Le forze armate Insomma Sono in Buonasera Sì che è un Napoli Che è uno scippato Per la strada Come la strada Come la scuola da sopra non ci viene fatto a me è un po' l'anno assoluto è un po' l'anno assoluto è un po' l'anno assoluto è un po' l'anno sicuro è il mortale una donna se la ministra come la famiglia la nazione no no è quello che tante stanno è quello che tante stanno fatti e questo lo contesto perché tante stanno fatti non li fatti non li fatti non li fatti non li fatti le pavere erano i telefoni questo qua e poi le pavere e poi le pavere e poi l'altro lo so era fanatico la sera aveva delle cose il bilancio del primo semestre sono andate a confere e lì la lì e lì mi chiamo mi chiamo mi chiamo io sono stato per 5 anni appassionato veramente appassionato mi viene riportato ma sai che io da quando c'è 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 capo in testa capo in testa si hanno rifinanziato hanno rifinanziato dopo finire la la nazione di milancio e noi stavano mi chiamano le forze ma che cosa gestiamo noi vediamo dimostrato è il suo Quindi qualsiasi attacco sul risco non possono riprendere la foto. L'ultimo intervento di pace dell'Italia, un 50 voto possibile, la Francia non rimane più. E quindi la Francia è la Germania. Quindi poi dobbiamo rivedere le regole bingali. Ma può mai partire un colpo di militare come opera di Venezia che non può sparare colpo?